Ciao a tutti da Diego di Teacanofon.it Questo è un video registrato in Ultra HD con LG G5 e la sua fotocamera grandangolare Guardate che spettacolo Sembra di avere una Action Cam, una GoPro che davvero non ha niente a cui invidiare Usando questa fotocamera abbiamo un'apertura di f2.4 Quindi comunque lo sfocato non è come quella principale E una risoluzione da 8 megapixel, mentre quella principale è da 16 megapixel Tuttavia devo dire che la qualità di ripresa è davvero ottima Ma la figata è assolutamente questo grandangolo Che ci permette di inquadrare tantissimi oggetti nella nostra ripresa Camminiamo anche un pochino, non abbiamo la stabilizzazione Perché comunque stiamo usando il 4K E devo dire che è davvero suggestiva questa modalità di ripresa Soprattutto camminando, guardate che bellissimo effetto che viene dato Vi saluto, ciao da Diego